A Imola si trova un'area di circa 140.000 metri quadri a ridosso del centro della città che è stata chiusa al pubblico fino a due anni fa. Si tratta dell'Osservanta, l'ex polo sanitario dedicato alla cura dei malati di mente che oggi si contraddistingue per i grandi padiglioni che venivano usati per il ricovero dei pazienti. Dopo la messa in ordine delle aree verdi da parte del Konami è stata inaugurata l'area gioco bimbi a ridosso della vecchia pista da ballo. Oggi si inaugura questo spazio dedicato ai più piccoli e quindi valorizziamo questo parco storico così importante a livello storico di Perimola che è il parco dell'osservanza e c'è stata una particolare attenzione, una sensibilità anche verso i bimbi che portano delle disabilità. Quindi questo è molto importante, lo vogliamo dare e anche portare come segnale perché stiamo riguardando un po' tutti i parchi giochi cittadini. Il Rotary ha contribuito con una cifra pari a 3.600 euro. Il nostro è un club che si occupa di solidarietà sul territorio e ci sembrava opportuno poter rivalorizzare questo parco donando un'altalena definita e inclusiva. Anche le famiglie che hanno bambini non normodotati possono frequentare un parco bello come questo, è così antico e così prezioso. Per quanto riguarda invece la riqualifica dei padiglioni, la situazione è molto più complessa, dal momento che gli edifici sono vincolati dalle belle arti ed occorrerebbero circa 4 milioni di euro per ristrutturarne anche solo uno. È stato quindi pensato ad un progetto di collaborazione con l'Università di Bologna per realizzarvi un campus universitario e ad oggi l'idea sembra avvicinarsi. Io spero veramente di vedere per la prima volta ai primi di febbraio e di marzo la rigenerazione dei padiglioni 7 e 8 che riguardano il convito universitario. Quindi partire da lì, partire con i giovani per poi anche portare avanti altri progetti che riguardano sia i bambini sia gli anziani, quindi veramente vissuta tutto tondo questo parco per la città.